ciao a tutti bentornati in un nuovo video con vimi continuiamo il gioco ancora a questo livello perchè abbiamo ancora tanti livelli da andare avanti eravamo rimasti a questo creiamo una specie di palloncino sono arrivata è peccato però non ho schiacciato il bottone sudi un poco vai sudi poco schiacciare il bottone no 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 vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù decide che deve morire dai dai alleluia ce l'ho fatta ce l'ho fatta brutto pipotto ok non voglio più vedere un livello del genere in inglese si è rotto non devi che devo rompere quello dovevo romperlo non facciamoci domande no facciamoci domande adesso gravity force no dimmi che come quello con tutti i spunzoni così così ok ok piano vai qua ok poi fai così e così cosa è successo cosa ho fatto non ne ho idea basta non ne ho idea andiamo avanti non voglio sapere nient'altro adesso cos'è vero la place tu di muore piano dai spunzoni sotto il bottone bottone lo so è uno stupio livello no 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 c'è vero la place tu di muore qua ma dai ping 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 Cosa? Oh oh Lacca Sta laccando No no Ok Piano Oh gaspita Oh che sono morta Ai Ce la puoi fare Oh ce l'ho fatta Meno male Che nervosa che faceva Quel livello Ok Cos'è pausa Guarda che devo mettere pausa Così Ma dai Ok Passata Eh Sono Vai Cioè Non ci muove Sono Fighting Non ci muove Allora Shake the device Ma cosa Ma dai No Dai Adesso Sono I Prima persona No Così sono Tipo Tipo Prima persona Ok Schiaccio il bottone Oh Opla Sembite Sesso strano Volume Voglio La musica No Ho dovuto davvero Alzare il volume Il tuo gioco è sempre più strano Non è che ho tolto la musica E tutto Cos'è Cos'è Io dovrei Giocare Così Adesso Che Usa Su Qui Eh Non è difficile No Dai Prendili E' facile Infatti E' facile E' solo Che il mio Senso di Corroggimento E' come Quello E' pari a quello Dell'orientamento Di Zoro Ok Devo schiacciare Quei due Qui Ok No Così L'ho fatta Così E Opla L'ho fatta Style Sul bottone Ok Ah Ovviamente E' partita Una pubblicità Ancora Ancora Bottoni Un altro Bottone Eh Ma Ah No No E' nel menu Ancora E' nel menu Adai Trappi Trappola Ado Passa Didi Un altro Ancora Ancora Alla no no ok ma no è alla fine su serio tocca il tuo corpo non dirmelo allora qua ci metto il corpo lì ci salta e qui uso il dito tris combo solo un dito giusto un dito un dito eh non salta ah sono un tocco una volta aspetta facciamo così così per niente solo una volta segret 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 way cioè vai ah devo saltarci sopra cos'è 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 al contrario è al contrario vabbè non è difficile credo cos'è 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 quale il bottone quale il bottone trattato eccolo qua no ma 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 grazie ahahah divertente eh open the door please cos'è questo oh ce l'ha fatta oh no ancora quello testa in giù da eppure al contrario no no ti prego testa in giù è anche il contrario i tasti no 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 mi piace ok non è difficile credo devo solo ui ok posso farcela ok basta che vai dritta e così oh meno male